Dalla sua squadra di passare il turno e andare ai sedicesimi di Coppa Italia. Quello che si aspettava, penso le risposte che si aspettava dalla sua squadra, oggi si è arrivato. La stagione passata non è passata, ha lasciato un segno su tutti noi. Oggi è un'altra partita, un'altra competizione, un'altra stagione. Le stesse società, ma due squadre diverse, perché anche se si cambia un solo giocatore cambiano le dinamiche. E' contento, contento per i ragazzi, perché è una bella prestazione, una vittoria che fa sempre bene. Ancora queste partite ci danno la possibilità di andare a aggiustare le cose che dobbiamo migliorare. Mi sembra, con Pietro Orvali o con Pietro Orvali ha un punto rispetto a quella che è la sua idea? Ma non lo so, quello che è in casa altrui non lo so. Un primo tempo, è vero, siamo andati subito in vantaggio, però era un palleggio non abbastanza fluido. Non fluido da parte nostra, cose che noi sappiamo fare molto meglio. Nella seconda parte si è sviluppato e poi com'era un terzo gol di fattura corale, di gioco, di un bel gioco. Sono contento per tutti, per i ragazzi, per Mann, per Bonni, ma per Beneca è che c'è lavoro e poi trovano la gratificazione con il gol. Ma questa è una partita, ormai è andata e noi dobbiamo prepararci alla prossima e pensare in questo modo. Testa bassa sul lavorare, ma voglio una leggerezza migliore da parte dei miei, perché più riusciamo ad essere sereni, le qualità vengono fuori. Abbiamo lavorato bene in queste partite amichevoli contro squadre con le quali ci siamo allenati veramente molto. Oggi comunque era un test non semplice e siamo usciti soddisfatti. Il Parma è considerato una delle squadre candidate alla promozione quest'anno, a differenza di come è andata l'anno scorso. Lei ci crede? Tutto quello che si dice, no, perché poi si parte e si riparte da zero. Tutti dicono che è il Parma, poi l'anno scorso sono arrivati in finale due neopromosse. In semifinale nel play-off, uno è il Bari e l'altro su Tirolo. Per cui il campionato va giocato di partita in partita e quello che si dice fuori, i pronostici, non hanno, almeno mi avviso, alcun valore. C'è un'altra domanda? Secondo lei il Bari soffre ancora di quel finale, delle scorie di quella finale col Cagliari? L'ha visto un Bari sofferente, diciamo un ferito ancora oppure che si è tolto di dosso appunto quel peso di quella partita? Guardate, è quello che dicevo pure prima. Il finale a noi ci ha lasciato disarmati per come finale del campionato della stagione passata. Per quello che è successo, per cui questa domanda andrebbe fatta a Michele, a Mignani e non a Menovi. Per quello che so, noi so quello che ci è capitato e ce lo teniamo stretto. Grazie, buonasera.